La Fondazione Cassa di Rispermio di Pistoia e Pesce ha stanziato 3 milioni di euro che serviranno a finanziare il nuovo bando speciale denominato Cantieri Aperti 2014 riservato all'amministrazione provinciale e ai comuni della provincia di Pistoia. È un bando sul quale abbiamo stanziato 3 milioni, quindi non proprio una somma modesta e consiste in questo che noi siamo disponibili a finanziare nell'ambito di questo plafond che ho detto prima opere pubbliche per le quali gli enti locali abbiano già progetti cantierabili in modo che essi possano essere attivati entro al massimo 4 mesi dalla comunicazione della concessione del finanziamento. Il bando ha l'obiettivo di favorire la realizzazione in tempi rapidi di opere di interesse pubblico allo scopo di ottenere positivi e immediati effetti sull'attività produttiva e sui livelli di occupazione. In una situazione assolutamente stagnante e scoraggiante abbiamo voluto dare con un'iniziativa del tutto nuova e per noi un po' straordinaria abbiamo voluto dare un'occasione perché qualcosa si muova, comincia a muoversi e possa ripartire un po' di lavoro. Oggetto di intervento possono essere gli edifici scolastici, le biblioteche, le palestre, i laboratori scolastici ed edifici e strutture con destinazione culturale o sociale. Sono finanziabili i lavori di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, adeguamento normativo, riqualificazione anche in termini di risparmio energetico, nonché i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.